Chi ha denunciato le vessazioni del racket e dell'usura non subirà più l'aggressione al proprio patrimonio. Lo stabilisce un protocollo di intesa, siglato a Palazzo di Governo del Capoluogo, dai prefetti della Calabria, dalle procure distrettuali di Catanzaro e Reggio Calabria e dall'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana. L'intesa è finalizzata a estendere la circolarità delle informazioni relative alla sospensione dei termini in favore delle vittime di richieste estorsive e di usura, bloccando le procedure esecutive per 300 giorni dal decreto della Procura dove è stata asporta denuncia. Questo tipo di accordo, ha sottolineato il prefetto di Catanzaro, Luisa Latella, è il primo in Italia, un patto che deve far leva, come ha rilevato il prefetto di Reggio Calabria, Claudio San Martino, sui soggetti che non denunciano spingendoli ad avere coraggio. Un protocollo di intesa che nasce su richiesta della Procura di Reggio Calabria guidata da Federico Caffiero Derao e che serve ad agevolare, attraverso un provvedimento della DDA, come ha chiarito il procuratore capo di Catanzaro, Vincenzo Antonio Lombardo, le vittime del racket negli adempimenti ai quali le stesse vittime sono soggetti a vario titolo.